Buongiorno, siamo qui nella sede del Comune di Barcellona con il dottor Enzo Curzio, vicepresidente del segretariato dei Nobel per la pace a Roma. Vicepresidente, cosa si aspetta il segretariato da questo quindicesimo summit dei Nobel per la pace? Il summit dei Nobel per la pace inizia nel 1999 con un obiettivo ben preciso, che fu quello di Gorbaciov inizialmente, cioè quello di fare da ponte tra le nuove generazioni, la società civile e il mondo della politica. Il mondo della politica ha a che fare con i fatti della propria vita quotidiana e soprattutto con le personalità che hanno segnato un cambiamento, un segno di discontinuità. E il summit appunto vuole raccordare tutto in circolo, tutti questi settori che sono frammentati e un po' schizofrenici oggi, perché ognuno parla per conto suo, ma il summit vuole mettere insieme le esperienze, i cambiamenti, con il desiderio di costruire un futuro migliore. Bene, più di 500 ragazzi parteciperanno a questo evento, verranno da 5 continenti e da 25 paesi diversi. Qual è il valore aggiunto che questi ragazzi daranno al summit dei Nobel per la pace? Innanzitutto voglio dire a questi ragazzi che qui abbiamo dei simboli, abbiamo dei maestri, dei mentori. E chi più di uno studente universitario o di uno studioso può approfondire questa relazione che c'è tra maestro e discepolo. È una buona occasione per trovare ispirazione da un mentore e soprattutto anche trovare un mentore, perché no? Oggi, come dicevo poc'anzi, ci siamo un po' smarriti, il summit vuole essere un luogo dove ritrovare un filo per formare una nuova classe dirigente, perché no, attraverso una ispirazione che ha a che fare non solo con la pace e la solidarietà, ma con un modello di relazione umana completamente differente, basato sulla non violenza e sui diritti umani.